Bene, buonasera a tutti. Chiedo al Segretario se c'è il numero legale. Sì, abbiamo il numero legale. Grazie, c'è il numero legale. Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Nominio scrutatori, il Consigliere Sonia Daniello, il Consigliere Giacomo Manfrin e la Consigliera Maria Bonato. Dunque, risultano assenti i consiglieri del Ben e Manzon. Comunico che, senza l'articolo 30 del Regolamento del Consiglio Comunale, il verbale della seduta precedente è messo a disposizione dei consiglieri, anche in formato digitale, e che può essere consultato anche con l'ausilio del computer presenti in saletta consiglieri. Qualora, entro la fine della seduta, non siano sollevate eccezioni, il verbale si intende approvato senza votazione. Comunico al Consiglio l'ordine dei lavori di questa sera, deliberato dalla Commissione dei Presidenti e dei gruppi consigliari. I primi 40 minuti saranno dedicati alla presentazione del bilancio. Poi si passerà all'esame della deliberazione riguardante la razionalizzazione delle società partecipate. Quindi, se rimarrà tempo, si passerà l'emozione e le interrogazioni. La chiusura dei lavori dovrebbe essere alle 22.30, salvo che la delibera non richieda più tempo. Chiedo al Sindaco se ci sono comunicazioni. Non ci sono comunicazioni. Bene, do pertanto la parola all'Assessore Mazze per la presentazione del bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriannale 2015-2017. Prego, Assessore. Sì, grazie Presidente. Allora, partiamo da una premessa molto semplice che è quella che ci porta oggi a presentare questo bilancio. Qual è la premessa? La premessa è che oggi, rispetto al passato, cambiano le condizioni con i quali si approva il bilancio perché abbiamo contenza di tutte le risorse che vengono messe a disposizione solo quando possiamo utilizzare anche l'avanzo di amministrazione che si produce dopo il consuntivo, solo quando l'avanzo di amministrazione della Regione viene messo a disposizione delle autonomie locali attraverso la ripartizione. Cosa significa tutto questo? Che partiamo con un gap non indifferente, soprattutto sul fronte dei trasferimenti regionali. partiamo con un'entrata minore e quindi dobbiamo fare un sacrificio maggiore nel contenere le spese in questa prima fase, avendo poi l'opportunità nelle fasi successive di rimpinguare determinati capitoli in funzione dei trasferimenti che via via avvengono. Quindi non è più un bilancio che si presenta e poi rimane un testo inviolabile per l'intero anno, è uno strumento flessibile che si armonizza in funzione delle risorse che vengono accertate e che si possono mettere a disposizione. Ma perché lo approviamo comunque in tempi brevi? Perché lo approviamo anche senza questi trasferimenti iniziali? Lo approviamo per alcune considerazioni che facciamo adesso. Certezza della programmazione. È chiaro che soprattutto per una struttura complessa come quella del Comune di Pordenone, avere già determinati obiettivi, determinate risorse a disposizione senza doverle utilizzare in dodicesimi come si fa quando non si approva un bilancio, significa avere una certezza della programmazione e poter avviare tutta una serie di interventi previsti e significa soprattutto abbattere quei costi amministrativi che l'esercizio provvisorio ci procura. Di fatto questo ragionamento l'abbiamo fatto sia anche con quei confronti che abbiamo fatto preliminarmente sul bilancio con i capigruppo e con i loro delegati e una serie di considerazioni e di ipotesi proposte anche in quella sede ci hanno consigliato di accelerare i tempi della presentazione del bilancio di previsione. Credo che siamo tra i primi comunque comuni. Sicuramente il primo comune in capoluogo ma tra i primi comuni ad approvare il bilancio di previsione anche quest'anno. Anche se, ripeto, i veri tempi per presentare il bilancio non devono essere tre mesi dopo l'inizio ma dovrebbero essere addirittura entro la fine del bilancio precedente. Questo vuole un'ottimizzazione totale di quelle che sono le attività di programmazione all'interno del Comune. Quali sono gli obiettivi strategici che ci poniamo quest'anno? Beh, noi abbiamo avuto un calo di investimenti in questi anni. Calo di investimenti che è dovuto in particolare a una riduzione di quelle che sono le potenzialità determinate dal patto di stabilità. Il patto di stabilità ha di fatto ridotto le capacità di investimento del Comune pur avendo il Comune le risorse a disposizione. Quindi non si potevano finanziare le opere ma non si potevano liquidare gli stati di avanzamento. Questo ci ha consigliato di programmare le nostre attività di investimento in funzione anche delle capacità che avevamo di liquidare alle imprese di stati di avanzamento. Cosa significa? Che finora noi non abbiamo mai avuto ritardi nei pagamenti alle imprese. Quindi la buona programmazione che abbiamo avuto ha ridotto sugli investimenti. Ma di fatto noi non abbiamo fatto stati di avanzamento senza poi poterli pagare. Cosa che non è successo dappertutto. In funzione anche di questa ridotta possibilità di investimento l'ente ha puntato la sua azione amministrativa soprattutto nel programmare nel programmare gli investimenti, nel programmare quello che è le attività del futuro sul proprio territorio. E questi sono gli obiettivi principali. L'approvazione del piano regolatore comunale che credo avverrà tra poco, adesso l'assessore Toffolo forse vi potrà dire anche i tempi specifici ma pensiamo entro il mese di maggio, entro il mese di maggio, il piano della mobilità sostenibile. L'assessore Zille mi dice che è già presentato in commissione quindi anche questo verrà presentato poi in consiglio comunale. Abbiamo alcuni piani che viaggiano in parallelo perché ogni piano ha un collegamento con la pianificazione che stiamo facendo territoriale e di mobilità, in particolare per quel che riguarda il piano energetico, il piano dello smog e il piano acquistico. Questi sono gli obiettivi di pianificazione che ci diamo per l'anno 2015. Oltre a questo abbiamo la notovità importante. Siamo riusciti a firmare finalmente la convenzione per quel che riguarda gli investimenti previsti dai finanziamenti sul PISUS. Il piano, l'acronimo non me lo ricordo, ma piano? È sostenibile. Questo finalmente, non per causa nostra fino adesso, non avevamo la possibilità di firmare questa convenzione con la Regione, si è sbloccata la situazione, siamo in grado di liberare queste risorse e quindi questi investimenti di fatto, che sono investimenti della Regione che avvengono attraverso trasferimenti e cofinanziamento del Comune, sono contenuti nel patto di stabilità, stanno dentro come cofinanziamento del patto di stabilità e, integrati con i trasferimenti regionali, ci permettono di fare investimenti per circa 5 milioni di euro. Circa. Abbiamo una serie di investimenti importanti sul sistema idrico per la messa in sicurezza del territorio e delle sondazioni e qua, magari in Commissione, potremo anche chiedere all'Assessore Conficoni che dia una specifica declinazione di tutti quelli che sono gli interventi che derivano in particolare anche da una serie di contributi che siamo riusciti ad ottenere, quindi non solo faremo gli interventi ma siamo riusciti anche ad ottenere una serie di specifici finanziamenti molto importanti, soprattutto per il territorio a sud della città dove ovviamente il tema delle sondazioni è un tema molto sentito. Continua invece l'obiettivo della riorganizzazione tra Casa Serena e Umberto I con l'obiettivo di unificare le due strutture e di razionalizzare quindi i costi delle due strutture in maniera che ci sia un'economia di scala che prevede appunto un contenimento dei costi generali mantenendo comunque la qualità e l'erogazione del servizio che stiamo dando attualmente. C'è un obiettivo importante dell'ambito urbano 6.5 presidi sociali e territoriali, alleanza con il territorio per soddisfare i crescenti bisogni ed emergenti. È un nuovo modo di integrare... Prego. Noi ve le possiamo dare anche subito? Le slide? Non c'è problema, ve le diamo. Le avete? Ecco, mi dicono che le hanno, quindi dovrebbero essere già state distribuite. Altri obiettivi strategici ne abbiamo parlato nel precedente Consiglio Comunale è un obiettivo importante perché dal 1 gennaio 2016 c'è una rivoluzione per quel che riguarda le competenze che il Comune dovrà portare avanti in proprio e quelle che dovrà delegare all'Unione dei Comuni che lo fa per competenza propria o proprio per delega obbligatoria del Comune di Pordone come per tutti gli altri comuni della provincia e gli altri comuni della Regione. ne abbiamo abbondantemente parlato nel Consiglio Comunale scorso. Per quel che riguarda le opere, finalmente arriviamo alla conclusione di quello che è un investimento che purtroppo ci ha contenuto gli investimenti di altro tipo che è l'investimento che abbiamo fatto sul Comando Provinciale dei Carabinieri. L'ultimo anno, gli ultimi 5 milioni, dovremo chiudere quest'anno questo lavoro. speriamo poi di poter consentire al Comando Provinciale di spostarsi dall'attuale sede, la nuova sede e di trasferire al Comune la locazione che attualmente il Comando versa a un privato e quindi versarlo a un ente pubblico che poi potrà riversarlo nelle casse comunali per finalità che sono di natura più sociale che quelle di un privato, ovviamente. Viabilità rotatorie. Per dar compimento all'approvazione del piano della mobilità, ci sono in programma alcune rotatorie, quelle che trovano già un finanziamento attraverso devoluzioni di mutui o trasferimenti di contributi che erano stati utilizzati per finalità anche diverse e in particolare sono la rotatoria di via Montereale. Quel semaforo lì è un semaforo che ovviamente crea dei problemi, soprattutto di code, e lì dobbiamo intervenire. La proprietà di quella strada è una proprietà che appartiene al Comune di Pordenone e quindi il fatto di intervenire lì con una rotatoria ci consente di fluidificare il traffico. Anche se probabilmente ne avete parlato sul piano della mobilità, c'è sempre il tema di via interna, quindi dobbiamo sempre tenere presente che ci sono due semafori vicini. Largo San Giovanni e Piazzale Duca d'Aosta, che sono due interventi che vanno a intervenire sulla mobilità attorno al ring, fluidificando la mobilità, quindi più fluida e una sicurezza maggiore anche per quel che riguarda il ring. Aptem, ne abbiamo parlato sempre lo scorso Consiglio Comunale, è la famosa gara che noi facciamo per la distribuzione del gas e la facciamo per compito preciso che la legge ci attribuisce come Comune Capoluogo ed è una competenza che poi la troveremo anche nella parte corrente del bilancio perché vedete che ci sarà una partita di giro di entrate e uscite che sono relative a questa gara qua. Andiamo un pochettino a analizzare quelle che sono le macroentrate e le macrospese dell'anno 2015. Noi chiudiamo il bilancio con un totale comprensivo di ogni onere per quel che riguarda sia gli investimenti e quindi la parte capitale che la parte corrente di 115 milioni di euro. Come sono ripartiti per quel che riguarda le entrate? Abbiamo un avanzo di 480 mila euro ed è terminato esclusivamente per la questione rifiuti e la utilizzeremo esclusivamente per la questione rifiuti. Quindi è un'entrata che noi utilizziamo per contenere il costo del servizio dei rifiuti dell'anno 2015. Lo vedrete dopo sul piano finanziario. Le entrate tributarie sono 31.852, i trasferimenti 42.501, l'extra tributaria 21.349, le alienazioni e i trasferimenti 7 milioni, l'accensione di prestiti 4 milioni, totale 107, più ci sono questo partita di giro dei servizi conto terzi. Vi faccio un esempio, quando noi incassiamo una cauzione provvisoria, è chiaro che poi la registriamo sia in entrata e quando la liberiamo perché i lavori sono fatti, la svincoliamo in uscita. Questi sono i 7 milioni di questa voce servizi conto terzi. Entrata e uscita quindi neutra rispetto al bilancio. Pagina 6, vediamo invece un'analisi un po' più selettiva di quelle che sono le voci di entrata e un confronto soprattutto sull'assestato 2014. Noi nel 2014 avevamo entrate tributarie per 32.687. Quest'anno sono previste 31.852, un calo di 835.000 euro che sono attribuibili esclusivamente in particolare a IMU e Tasi e dopo vedremo nel particolare. Abbiamo un trasferimento di parte corrente che deriva dallo Stato e dalla Regione che passa dai 45 milioni di euro dell'assestato 2015 a un 42 milioni previsti per l'anno 2015. Allora, cosa significa? Già qua noi abbiamo uno scostamento importante delle entrate che ci costringe a uno scostamento importante, quindi una spendy review molto accentuata nella parte spesa. Vi ricordo che comunque le entrate saranno poi in qualche maniera ulteriormente corrisposte per trasferimenti regionali, soprattutto quando la Regione stessa avrà approvato e metterà in utilizzo agli enti locali il proprio avanzo di amministrazione per l'anno in corso. Le entrate extratributarie, vedete che sono un milione, queste sono la trasformazione dell'IVA che un tempo noi pagavamo direttamente all'impresa, non paghiamo più e trasferiamo direttamente alla contabilità IVA dello Stato. Voi sapete che adesso le nostre fatture non le liquidiamo comprensive di IVA, le liquidiamo solo al netto e quello che tratteniamo di IVA lo dobbiamo versare e questo determina un'entrata maggiore al Comune che poi al quale corrisponde comunque una spesa. Quindi lo scostamento è di peso esclusivamente da quel milione e mezzo di differenza. L'avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente è di 400 on tata, ve l'ho spiegato la natura, tassa rifiuti, recupero di tassa rifiuti dell'anno precedente in avanzo utilizzato per abbattere i costi del tributo della Tari per l'anno in corso. In totale comunque le entrate in meno sono 3 milioni e 300 mila euro che in un totale di 107 milioni potrebbero sembrare poche ma se noi cominciamo poi a distinguere quali sono le spese obbligatorie che di fatto noi abbiamo, che sono tante rispetto al complesso di 107 milioni queste vanno a incidere notevolmente su quelle attività che sono attività che il Comune e l'amministrazione decide di fare, il Consiglio Comunale decide di fare rispetto al budget dell'anno scorso. Insomma, quindi abbiamo lì una contrazione importante della spesa e in questa fase. Vediamo sul fronte della spesa. Personale. Abbiamo una diminuzione di 651 mila euro quindi significa che tutto il personale che oggi noi registriamo come pensionamenti non andiamo a sostituirlo. quindi il risparmio è importante andiamo a un abbattimento di poi vedrete la slide sul personale vedete come c'è un calo della spesa sul personale importante in questi anni che è determinato anche da una riorganizzazione che abbiamo fatto da accorpamenti che abbiamo fatto e che in qualche maniera mantiene l'efficienza, l'efficacia dei servizi che eroghiamo in funzione anche di una organizzazione che ci siamo dati nuova e quindi con meno risorse umane. Soprattutto le prestazioni di servizi risente di questo calo di entrata di 2 milioni e 4 i trasferimenti che sono contributi che noi eroghiamo 1 milione e 3 in meno vedete come si cala anche gli interessi passivi che sono la parte interesse del rimborso dei mutui di 453 mila euro ma in contraltare sulle quote di capitale di rimborso di quota capitale abbiamo un aumento di 470 cioè man mano che noi stiamo esaurendo i mutui vedete che la quota interesse si sta abbassando e restituiamo sempre più capitale e quindi da questo punto di vista è anche un'azione virtuosa e positiva. Il fondo di riserva naturalmente lo ripristiniamo alle condizioni di partenza siamo partiti nell'anno 2014 con 315 mila euro nel 2014 abbiamo utilizzato parte del fondo durante l'anno all'inizio del 2015 lo ripristiniamo a 315 mila euro vincolati anche dalla norma quindi non è che possiamo vincolarne di meno e speriamo di utilizzarne il meno possibile. vediamo la slide numero 7 che riporta qual è l'andamento della spesa corrente per i servizi all'innetto delle poste straordinarie questo testimone è proprio di fatto la spending review che abbiamo fatto in questi anni la chiamiamo così perché va di moda noi ovviamente abbiamo tolto alcune fonti di spesa che sono fonti che hanno entrato a uscita come i 12 milioni che trasferiamo di IMU allo Stato voi sapete che ogni anno noi dell'IMU che ci entra 12 milioni trasferiamo allo Stato anche se poi lo Stato ci rimborsa l'ex ICI prima casa una quota a parte comunque noi sempre 7-8 milioni sotto dobbiamo andarci rispetto a quello che chiediamo i cittadini che poi dobbiamo per obbligo trasferire allo Stato i 5 milioni e 7 sono la parte di bilancio che attiene all'ambito quindi non attiene sono il comune di Pordenone perché noi facciamo bilancio anche per tutti i comuni dell'ambito quindi comprensivi di Porcia Porcia, Roveredo, Cordenone, Sanquirino teniamo il bilancio per l'ambito noi dobbiamo obbligatoriamente no, la parte di bilancio che è relativa all'ambito socioassistenziale viene tenuto esclusivamente dal comune capoluogo domani dall'unione dei comuni domani dall'unione dei comuni no, no, sono qua per quello faccio fatica a capirlo anche io consigliere ogni tanto ecco, ci aiutiamo ci aiutiamo 1 milione e mezzo sono l'IVA da versare questa è la prima volta che noi versiamo questa IVA allo Stato e vi dicevo che questa la troveremo nelle varie slide perché è uno scostamento rispetto agli equilibri che avevamo l'anno precedente una novità, diciamo lo split payment noi siamo obbligati guardi, se noi cominciamo a dire se Renzi è sbagliato, ha fatto bene non finiamo più noi dobbiamo semplicemente dire ciò che dipende da noi dipende da noi ciò che dipende da altri lo decidano gli altri e se ne prendono la responsabilità se no facciamo un'operazione bella magari ma credo anche inutile 432 è la famosa gara del gas se noi depuriamo dall'andamento della spesa corrente tutte queste prego no no il PISUS l'ho detto 1 milione e 6 e 52 che è la parte corrente dell'intero progetto PISUS perché la parte di PISUS si differenzia in opere e investimenti del comune e contributi che noi diamo in parte corrente alle attività economiche che chiederanno rispetto al bando di partecipare a questo progetto il 23% vi dicevo se noi depuriamo queste spese noi vediamo che la capacità di spesa dell'ente in questi anni si è notevolmente ridotta perché siamo passati dai 70 milioni allora se la vediamo non deflazionata dagli 80 milioni siamo passati del 2011 siamo passati ai 64 milioni di previsione 2015 l'anno scorso erano 70 mentre se la vediamo anche deflazionata noi con i 53 milioni che spendiamo con il bilancio di previsione di quest'anno raggiungiamo livelli di spesa che erano del 2002 2003 quindi abbiamo fatto un notevole calo di quelle che sono le spese soprattutto rispetto al 2011 Presidente fa campagna elettorale fa campagna elettorale ah dai veramente dopo andiamo in commissione dai andiamo in commissione l'esposizione diventa confusa prego Assessore allora per quel che riguarda la politica fiscale voi avete visto che abbiamo ridotto quella che è la pressione fiscale nel suo ammontare complessivo come la riduciamo materialmente teniamo la tasi invariata all'1,25 è uno dei diciamo delle aliquote più basse che conosciamo nella nostra regione e intendiamo mantenere questa aliquota bassa quindi l'aliquota resta invariata per la prima casa eliminiamo dall'imposizione della tasi le altre abitazioni cosa significa che avremo un calo delle entrate no spostiamo questa aliquota sulla tassazione dell'IMU quindi accorpiamo IMU e tasi sulle seconde case e sugli altri fabbricati in questa maniera chi fa un versamento non ne fa due fa solo un versamento e dovremmo riuscire anche nell'obiettivo che ci siamo dati a giugno non di fare fare i calcoli sia alle famiglie per quel che riguarda la tasi sia alle famiglie che hanno seconde abitazioni per quel che riguarda l'IMU ma dovremmo riuscire quest'anno a spedire a casa sia gli F24 per l'IMU e gli F24 per la tasi ma noi riusciamo a farlo per entrambe soprattutto perché siamo riusciti a mettere in piedi una banca dati che dal punto di vista dal punto di vista proprio della capacità organizzativa ma non credo che quelli che spediscono la tasi a casa quest'anno abbiano una banca dati del nostro livello di approfondimento soprattutto perché ci permette non solo di spedire a casa quella che è la rendita catastale ma di verificare anche coloro che sono in affitto quali sono i contratti d'affitto e riusciamo addirittura a vedere attraverso un'intersezione dei dati delle banche dati con altri enti se in quell'abitazione c'è un consumo di energia elettrica di metano in particolare e quindi noi abbiamo tutta una serie di intersecazioni di dati che ci permette di ridurre al minimo l'evasione cosa significa soprattutto ridurre al minimo quella che è l'evasione non consapevole cioè l'evasione di chi purtroppo magari si dimentica di fare il bollettino di andare a pagare perché noi stessi glielo manderemo a casa quindi abbiamo intenzione di fare questo perché ci consente di far pagare tutti quelli che sono in grado di pagare perché diamo un servizio vero e proprio e lo diamo con una completezza di dati che ci consente di dire che abbiamo raggiunto un obiettivo primario per quel che riguarda un'amministrazione locale che è di essere il più eco possibile per quel che riguarda i tributi si sa che più pagano le persone più tutti paghiamo meno possiamo far pagare ai singoli quindi l'accorpamento dell'Imu ve l'ho detto la Tari la Tari invece è la tassa su cui puntiamo per fare per dare un segnale di riduzione della pressione fiscale per quest'anno e la diamo in particolare mantenendo quello che è il livello di tassazione per quelle specifiche attività che nel 2013 hanno avuto un aumento considerevole della tassa rifiuti sapete che l'anno scorso con una quota di solidarietà generale abbiamo abbattuto del 40% e oltre quelle che sono i tributi per queste specifiche attività oggi con 200.000 euro noi manteniamo e lo vedremo dopo nelle tabelle questo contenimento di quella che è la tassa rifiuti ma non solo perché avremo anche una diminuzione di costi di 182.000 euro dal punto di vista delle organizzazioni del servizio e quindi questo ci permetterà e lo vedremo nelle tabelle successive di avere una riduzione dell'aliquota che va dal 3 e qualcosa per cento fino al 5% per tutte le altre per le attività non domestiche anche in funzione dell'aumento di metri quadri che noi tassiamo e qui ritorna qui ritorna la questione della banca dati più abbiamo una banca dati aggiornata più siamo precisi su queste cose meno i cittadini pagano l'addizionale IRPEF la manteniamo allo 0,2 come ce l'avevamo oltre dieci anni fa e quindi non intendiamo toccare questa liquida così come non abbiamo toccato nessun tipo di tariffazione individuale ma ad esclusione di quello che sono le tariffe per casa serena questo non tanto in funzione di un aumento quindi ma per un tentativo di armonizzazione che porti ha una maggior una maggior integrazione con l'altra struttura che è l'Umberto I in fondo gli anziani sono tutti uguali non ci sono anziani in serie A di serie B vediamo invece la slide numero 9 una specifica sulle entrate è sulle entrate e vedete che abbiamo un rosso in ogni in ogni parte delle delle specifiche voci di entrata imposte tasse meno 835 trasferimenti meno 3 milioni e 2 patrimoniali meno 273 questo è dovuto dalla famosa recupero che avevamo fatto sulle locazioni congea che l'anno scorso hanno previsto un recupero di 5 anni quest'anno non possiamo fare altri 5 anni facciamo soltanto l'annualità e quindi c'è una diminuzione sui proventi patrimoniali per questo esclusivo motivo altrimenti sarebbe una riconferma i proventi finanziari diminuiscono 200 mila euro d'altra parte si riducono i tassi quindi si riducono anche per quel che riguarda le nostre entrate dei soldi che abbiamo depositati presso la nostra tesoreria altri proventi il milione 4 e 69 e ancora lo split payment quello sull'iva l'avanzo è di 245 mila euro in meno siamo passati da 725 ai 480 ed è chiaro che il tentativo sulla parte corrente è di tendere ad un avanzo sempre più basso perché vorremmo che i programmi di spesa che noi facciamo si concretizzino dentro l'anno l'anno scorso noi abbiamo avuto un'entrata straordinaria di proventi patrimoniali da cosa derivavano abbiamo riscontrato che GEA non ci pacava una locazione relativa alla piazzola ecologica alla parte di discarica che utilizzava ecco l'anno scorso abbiamo fatto un recupero di questo credito per 5 anni siamo andati in arretrato i 5 anni quest'anno non lo possiamo più fare e quindi c'è un'entrata inferiore per questa motivazione c'è una diversa lettura con un diagramma di quelle che sono le entrate tributarie e le imposte vedete che c'è una diminuzione della pressione fiscale si passa da 32 687 a 31 852 per poco che sia è un segnale che noi non aumentiamo tasse ma in questo momento di qualcosa riusciamo a ridurle abbiamo anche i proventi patrimoniali ve l'ho spiegato prima cioè di fatto è la stessa la stessa slide precedente posta con un diagramma diverso le entrate in dettaglio che siamo 12 andiamo avanti avevo promesso che stavo dentro in 40 minuti cerco di stare in 40 minuti l'accorpamento dell'aliquota Tasi come seconda casa insieme con l'Imu ovviamente fa aumentare del 17% l'entrata dell'Imu corrispondente ha una diminuzione della Tasi di 3 milioni e 100 quindi una diminuzione della Tasi del 49% il meccanismo l'avete capito cioè non facciamo più pagare la Tasi sulle seconde case uno quando fa l'Imu fa l'Imu che comprende sia l'Imu e la Tasi dell'anno precedente quindi di fatto paga uguale anche se c'è una diminuzione complessiva dell'entrata perché rispetto alle previsioni dell'anno precedente siamo andati a una previsione più bassa in maniera anche prudenziale mentre per tutte le altre l'addizionale IRPEF non cambia l'imposta di pubblicità non cambia il diritto pubblico e profissione non cambia c'è una variazione sulla TOSAP del 6,67% non dipende da un aumento delle entrate derivante da un aumento dell'aliquota dipende semplicemente dal fatto che quest'anno riusciremo a recuperare 50.000 euro di arretrati quindi la previsione bisognerebbe leggerla 450 nel 2014 430 nel 2015 ma abbiamo questo recupero di arretrato di 50.000 euro attraverso un'azione che fanno gli uffici di recupero dell'arretrato l'addizionale energia elettrica non esiste più la diminuzione complessiva diciamo di Tari rispetto all'anno precedente è del 4,75% ma poi la vedremo suddivisa nelle categorie spermata nelle varie categorie e anche negli vari edifici a seconda se siano edifici con un residente due residenti o tre residenti la simulazione che adesso vediamo sulla slide numero 13 è relativa ai risparmi Tari per le utenze domestiche abbiamo fatto un esempio di un appartamento di 100 metri quadri con un residente fino a 5 o 6 e più residenti vedete che la Tari passa da una contribuzione per una persona di 120,83 del 2014 no pardon di 124,96 del 2014 quest'anno noi siamo 120,83 è un 3,3 30% in meno non è molto però insomma è un dato significativo il fatto che in un periodo così difficile anche di entrate che vengono tagliate malgrado tutto l'ente riesce ad abbattere di qualcosina non di molto quelle che sono i tributi per la tassa dei rifiuti ovviamente anche negli altri negli altri casi di un appartamento di 100 metri quadri per due persone per tre persone vedete che la percentuale di riduzione va dal 3,30 al 3,11 al 3,03 al 3,02 una famiglia di tre persone con un'abitazione di 100 metri quadri che pagava nel 2013 241 nel 2014 ha pagato 203 nel 2015 pagherà 197 vediamo invece per quel che riguarda come? lo so ma di fronte a quelli che aumentano qualcosa di meno insomma qualcosina non ci incensiamo per carità è soltanto un segnale che è un segnale che ripetiamo anche per quelle utenze che sono non domestiche voi vedete quelle in giallo sono quelle categorie che mantengono una riduzione importante per questo finanziamento che mette di parte propria di bilancio il comune proprio per ridurre quelli che sono i differenziali da quando avevamo la Tarsu a quando abbiamo prima la Tari come si chiamava quella prima Tasi no Tari Tares la Tares quindi se voi vedete anche qui le diminuzioni vanno per quelli in giallo sono diminuzioni dello 0,26% perché questo contributo importante le mantiene a quel livello di meno 44 dell'anno precedente mentre tutte le altre categorie che non hanno avuto questo contributo di solidarietà hanno riduzioni del 5,94% qui proprio a seguito della riduzione dei costi di servizio e a seguito anche dell'aumento della metratura che spalmandola su tutti contribuisce a una riduzione di quelli che sono i contributi che ognuno deve pagare spese in dettaglio l'andamento della spesa del settore a parte gli affari generali e le finanze che vede questo 862 mila euro in più che è una cifra si può dire drogata di fatto dallo split payment perché sarebbero 1.500 in meno quindi sarebbero anche qua 700 mila euro in meno vedete che tutti i vari servizi hanno una diminuzione della spesa che porta a un risparmio di 3 milioni 800 mila euro pari almeno 4 e 24 rispetto all'anno precedente e questo è il contributo che noi diamo di spendi review capillare su tutti i servizi per pareggiare il bilancio riepilodo previsione di spesa per il settore centro di costo anche qui c'è una suddivisione diversa io non vi faccio la declaratoria di tutto vi dico soltanto politica europea c'è un più ma l'anno scorso non avevamo il servizio quindi l'abbiamo reinventato gestione associata delle risorse umane anche qui c'è stata una divisione della spesa diversa e lo split payment che lo trovate nella voce contabilità per tutto il resto voi vedete che c'è una riduzione importante per ogni settore per ogni centro di costo di tutto il comune sempre sulle sulle refezioni scolastiche c'è un 18 mila euro in più ma dipende da una gara noi potenzialmente la gara non possiamo fare una base d'asta troppo bassa perché altrimenti rischiamo di non avere nessuno che concorre anche qui ci sarà un ribasso e forse questi 18 mila euro riusciamo a recuperarli così come su Casa Serena gli 86 mila euro derivano dalla distribuzione della gestione calore che l'anno scorso aveva era stata ripartita in maniera diversa ho visto Ribetti che voleva fare una domanda sì cioè il centro di costo è quello lì sì cosa vuole dirmi che abbiamo beh se noi dobbiamo paralizzare il bilancio dobbiamo cadere il contributo di tutti e tutti hanno fatto la loro parte per riuscire a quadrare il bilancio rispetto alle entrate che abbiamo non sono questo il centro di costo delle telecamere anzi sulle telecamere ci sono degli investimenti ma su quelle che gestiamo noi naturalmente beh io non mi piacciono tanto queste cose qua mentre per quel che riguarda sempre riepilogo sui centri di costo di spesa abbiamo sempre le politiche energetiche questi la gara del gas che porta in nero per il resto vedete che c'è una diminuzione importante per tutti i settori che ringrazio per aver dato questo contributo proprio al raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio nelle slide successive noi vedete quale sarà il bilancio dell'anno prossimo c'è il bilancio armonizzato noi oggi stiamo agendo con la classificazione del bilancio così come la conosciamo storicamente stiamo parallelamente lavorando sul bilancio armonizzato che fa testo oggi è la parte storica del bilancio dal punto di vista giuridico il prossimo anno si invertono le cose farà testo il bilancio armonizzato sarà accompagnato dal bilancio storico e nel 2017 ci sarà solo il bilancio armonizzato questo è praticamente il percorso che si sta seguendo per andare a un bilancio armonizzato che rivoluziona quella che è la tenuta contabile diciamo degli enti di tutti gli enti locali perché c'è una legge che bisogna anche qua rispettare l'FPV che vedete sono i fondi di destinazione vincolata che vengono già registrati nel bilancio armonizzato l'andamento della spesa per tipologia dal 2011 al 2015 anche qua io farei il confronto solo sull'assestato 2014 e a parte la solita voce che è imposte imposte tasse 1.482.000 che deriva sempre dalla questione dell'IVA abbiamo una diminuzione generalizzata di tutte le spese ad esclusione del fondo di riserva che viene ripristinato perché utilizzato per una quota a parte l'anno scorso e portato al valore iniziale dell'anno precedente l'andamento della spesa corrente ha un calo importante di meno 651.000 euro e c'è una generale riduzione della spesa per 2.042.000 euro e 420.000 euro spesa corrente vediamo la slide numero 24 che riporta l'andamento della spesa corrente diviso in locazione di bene imposte tasse oneri straordinarie fondo svalutazione crediti e fondo di riserva e vedete che l'aumento dell'imposto e tasse è derivato anche qua il differenziale dallo split payment di 1.500.000 euro altrimenti noi avremo una graduale riduzione in questi anni dal 2013 al 2015 andamento della spesa corrente riportato che prevede i trasferimenti che noi paghiamo allo Stato 23 milioni sono i trasferimenti di cui 12 milioni che diamo allo Stato che poi ci ritorna i 5 sulla prima casa personale mutui ovviamente per corrispondere a una diminuzione di spesa bisogna riorganizzare l'ente altrimenti questo può provocare disservizi e problemi noi l'abbiamo fatto e quindi vedete che abbiamo una riduzione in questi anni del personale dipendente in particolare anche dei collaboratori vedete la riduzione importante di quelli che sono i collaboratori interinali ma c'è una riduzione costante del numero dei dipendenti dell'ente che passa da 518 che avevamo raggiunto nel 2010 a 473 che è il numero che raggiungiamo nella previsione di bilancio di quest'anno non vi nego che stiamo anche un po' raschiando il fondo del barile quindi di fatto ulteriori risorse ci devono far anche riflettere sul fatto che magari da qualche parte qualche intervento lo dobbiamo fare nel momento che saranno disposizioni questi trasferimenti ragioneremo anche su questo però è importante vedere come la razionalizzazione del personale ha prodotto anche dei risultati importanti sulla diminuzione del numero di dipendenti e sulla slide 28 anche sulla spesa lo vedete perché siamo passati da 2014 20 milioni 296 a 2015 19 milioni 597 nel corso degli anni abbiamo fatto una costante riduzione rispetto all'anno precedente di risorse economiche noi spendiamo l'11 33 in meno vediamo invece una slide che testimonia anche qua l'incidenza del personale rispetto alle entrate complessive dell'ente e vedete se vedete l'ultimo anno noi passiamo da 20 54% a 20 48 siamo quasi costanti ma diminuendo le entrate è chiaro che questo rapporto rimane costante se avessero le entrate dell'anno precedente è chiaro che la linea scenderebbe ulteriormente è chiaro che nel 2012 siamo passati dal 23 89% di costi del personale rispetto alle entrate generali a un 22 91 nel 2013 a un 20 54 nel 2014 io mi aspetto che nel corso dell'anno questo 20 48 scenda ancora come scende ovviamente il rapporto fra dipendenti e popolazione passando dal 9 89 del 2009 al 904 del 2015 e c'è un calo significativo anche per quel che riguarda l'indebitamento complessivo dell'ente se voi vedete la slide numero 31 vi fa capire come noi nel 2015 abbiamo 2014 non tanto ma nel 2015 e soprattutto nel 2016 2017 noi abbiamo una diminuzione importante di quelli che sono gli oneri per il pagamento delle rate dei mutui benvenga per chi ci sarà perché nel 2016 potrà beneficiare di un più un milione e otto e nel 2017 oltre a questo milione no un milione cento ottanta perdono da un milione cento ottanta nel 2016 nel 2017 questo milione cento ottanta diventerà due milioni centosessanta quindi tutto a vantaggio di quella parte di spesa corrente che oggi viene utilizzata per rimborso dei mutui e domani in qualche maniera verrà liberata proprio a favore delle altre spese e quindi vedete le rate di ammortamento dei mutui sulle tratte correnti come significativamente diminuiscono nel corso di quest'anno passando dal 2009 che eravamo al 20,09 siamo pensati al 9,71% nel 2017 raggiungendo nel 2015 il 14,29 un po' più dell'anno scorso perché abbiamo utilizzato perché sempre sconta tutto questo le minori entrate complessive rispetto alla quota di risorse che utilizziamo per il pagamento dei mutui ma anche questa quota del 14,99 e 29 con l'utilizzo dell'avanzo con l'utilizzo degli ulteriori trasferimenti che mette a disposizione la regione andremo a diminuirlo ed è importante invece questa slide che è la successiva che è proprio la parte capitale dell'indebitamento dell'ente qui il dato è importantissimo perché abbiamo di fatto in proiezione diciamo nel 2017 dimezzato l'indebitamento dell'ente siamo arrivati dai 102 milioni del 2010 ai 63 milioni e 7 del 2015 arriveremo nel 2017 ai 51 milioni e quindi si libereranno quelle risorse che vi dicevo che oggi sono vincolate al pagamento di mutui però già il passaggio da 102 a 63 credo che sia un dato significativo è chiaro che tutto questo sconta anche il fatto che noi abbiamo avuto una riduzione importante delle nostre potestà di investimento insomma determinate del patto di stabilità cioè lo Stato ci dice riduciamo l'indebitamento che è del sistema Stato autonomie locali noi abbiamo dovuto fare la nostra parte e il vincolo del patto ci ha costretti a fare questa parte io credo che questa slide che è riferita al Comune di Pordenone fosse vista dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e fosse riferita al livello nazionale farebbe i salti di gioia insomma ma è un risultato è un risultato se lo Stato l'avesse raggiunto questo livello di riduzione dell'ambitamento sarebbe già a posto fuori dal tunnel d'accordo rigidità della spesa corrente anche in questa slide voi vedete è un indicatore lo prendiamo per quello che è sono le spese del personale più lira più le rate dei mutui divise sulle entrate correnti vedete che dal 2009 abbiamo una riduzione costante 2014 2015 sono alla pari sempre per la questione abbiamo meno entrate quindi questo rapporto aumenta solo per quel motivo l'autonomia finanziaria ovviamente aumenta è arrivata al 55,59% e anche qua malgrado le riduzioni della parte delle entrate correnti l'autonomia impositiva è rimasta più o meno costante sulle entrate nel rapporto tra entrate tributarie e entrate ordinarie vedete che apparentemente noi superiamo l'anno precedente ma con molte meno entrate perché in valore assoluto le entrate tributarie diminuiscono l'incidenza dell'Imu della Tasi sulle entrate proprie ha una diminuzione anche qui a parte i salti che abbiamo fatto negli anni che vanno dal 2011 al 2014 non c'entra Renzi qua c'erano governi diversi 2011 e 2014 sono gli anni in cui ci si è resi conto lo Stato ha chiesto enormi sacrifici di imposizione fiscale ai comuni in particolare sulla casa che poi i comuni sono stati costretti a riversare allo Stato a parità di condizioni voi vedete che nell'ultimo anno 2014 2015 c'è una riduzione la pressione tributaria pro capite è in diminuzione dopo i salti degli anni precedenti per le stesse motivazioni rispetto al 2014 noi abbiamo una diminuzione da 633 a 616 i trasferimenti regionali pro capite subiscono una diminuzione voi sapete che oggi noi ci accontentiamo di quelli che sono i trasferimenti regionali non a consuntivo il 2014 ma come dato iniziale del bilancio 2014 cioè il trasferimento che la regione garantiva all'inizio dell'anno del 2014 lo garantisce anche all'inizio dell'anno del 2015 non prevedendo ancora e non potendo accertare con questo bilancio ulteriori trasferimenti facciamo un po' una panoramica sugli investimenti voi vedete che gli investimenti per il 2015 hanno un incremento importante che facciamo non con ulteriori mutui ma con entrate derivanti da contributi in particolare la quota parte che riguarda soprattutto le opere idrauliche che vi spiegheremo nel dettaglio il PISUS e utilizziamo anche l'evoluzione di economie di mutui fatte negli anni precedenti attraverso una ricognizione su tutti quelli che sono i costi che non abbiamo sostenuto proprio per devolverli per nuove opere di fatto senza nuovi mutui noi abbiamo un investimento totale comprese anche le alienazioni che ancora non sono a disposizione perché finché non li vendiamo i loculi non possiamo utilizzare le risorse e anche per quel che riguarda l'alienazione di bene finché non c'è l'asta per l'alienazione dei parcheggi non possiamo utilizzare queste risorse però il totale di previsione complessiva va a 11.328 senza ripeto senza ulteriori mutui come vengono suddivise ecco l'offerta per topiologia 6.559 sono stradali e fibre ottiche c'è una voce fibre reti informatiche anche nella penultima riga di 514.000 euro non abbiamo potuto accorparle perché nel progetto PISUS quando si fa un intervento si fa sulla strada e anche sul sottosuolo quindi era difficile scorporare gli interventi sulle fibre ottiche del PISUS le abbiamo lasciate quelle che facciamo a se stante da una parte e messe sulle opere stradali e fibre ottiche quelle che sono relative al PISUS sport e spettacolo intervento di investimento un milione protezione dell'ambiente 120.000 igienico sanitario cimiteri 640.000 qua in particolare potrebbe anche rientrare questo investimento se utilizzassimo un progetto di finanza per quel che riguarda l'ampliamento dei nuovi loculi per il cimitero di Torre ne stiamo discutendo qualora si potesse procedere con un progetto di finanza questo finanziamento di fatto non verrebbe utilizzato ma verrebbe utilizzato il progetto di finanza che ovviamente non ci fa più incassare loculi come risorsa ma non ci fa neanche prevedere l'investimento iniziale edilizia scolastica 820.000 euro edilizia sanitaria 40 85 520 è perché ovviamente nelle previsioni che noi facciamo nel 2016 e 2017 prevediamo che lo Stato ci dia anche qualcosa perché se lo Stato non ci dà niente dobbiamo fare tutto con le risorse dell'ente dico semplicemente una cosa va bene che siamo copune capoluogo e quindi dobbiamo assumersi gli oneri di tutti i servizi che insistono in questo capoluogo però un po' di solidarietà da parte dello Stato o da parte forse della Regione e degli altri enti sarebbe necessaria visto che noi garantiamo ben più servizi di quanti se ne possono garantire non sono questi no potrebbero essere anche questi sono questi sono questi sono questi no ma sono investimenti sarebbero altri i crediti su parte corrente oltre questo ma io vorrei dirvi una cosa io credo di aver già un po' sforato il tempo io credo che in commissione ci saranno anche gli assessori e quindi magari possiamo anche sviluppare un po' meglio con domande e risposta se dobbiamo chiarire tutto stasera forse va bene sì sì la data della commissione è fissata la facciamo il martedì 7 alle 18.30 se non sbaglio dove è il presidente alle 18 18.30 non mi ricordo più 18 tra l'altro sono fissate anche tutte le date della presentazione del bilancio oggi sono i consiglieri di circoscrizioni i presidenti delle circoscrizioni abbiamo già fissato con loro anche i calendari delle presentazioni del bilancio discussione del bilancio nelle circoscrizioni è assolutamente vincolante è previsto il regolamento quindi noi i regolamenti li rispettiamo possiamo anche fare una disamina molto breve e veloce su tutti gli investimenti non vuole non vuole il presidente facciamo una disamina la maggior parte degli investimenti vedete pagina 44 sono quelli del Pisus ci aggiungiamo alcuni investimenti quello del cimitero vi dicevo perché a Torre abbiamo bisogno di loculi quindi questo lo dobbiamo o in project o direttamente con finanziamento lo dobbiamo fare abbiamo riprodotto tutti quelli che sono anche investimenti che appartenevano anche al trienale dell'anno precedente con differimento perché l'anno precedente non li abbiamo potuti mettere in atto per la questione del limite del base di patto di stabilità ci sono anche investimenti per altre opere e c'è gli investimenti per le non opere che sono ovviamente hardware per i servizi informatici arredi e tutti gli aggregati che poi noi prevediamo per le manutenzioni straordinarie che facciamo in ogni edificio su questo io direi che la commissione potrebbe in qualche maniera soffermarsi un po' di più e descrivere un po' meglio quelli che sono i singoli investimenti le ragioni di ogni singolo investimento e soffermarsi anche su quelle che sono le priorità rispetto a quello che oggi in questo momento il patto di stabilità ci permette sapendo sapendo che anche lì credo che ci sia al calo una discussione o una delibera dell'assore panontin dove c'è un ulteriore riparto per aumentare quello che è il budget del patto di stabilità degli enti locali quello che noi chiederemo è che questo aumento del budget non sia fatto sempre con il solito criterio della spargimento ma magari con un criterio un po' più mirato rispetto a chi ha opere pronte da mettere in da cantierare e non semplicemente da tenere risorse che poi vengono ripartite vi ricordo che l'anno scorso noi abbiamo chiesto in extremis ulteriori finanziamenti perché altri hanno rinunciato a questi finanziamenti vorremmo che già da adesso si potesse prevedere in maniera più diversificata più puntuale quella che è una previsione una programmazione che gli enti sono costretti a fare oggi non soltanto per il patto di stabilità ma anche un domani per il bilancio urbanizzato che in qualche maniera condiziona questo tipo di programmazione grazie grazie assessore meno di un'ora bene come da organizzazione dei lavori passiamo ora all'esame della proposta di deliberazione proposta numero 3 2015 legge numero 190 del 23 dicembre 2014 legge di stabilità 2015 articolo 1 comi 611 e 612 razionalizzazione delle società partecipate dal comune di Pordenone prego date la parola al signor sindaco grazie grazie presidente un attimo solo di di ecco tema che suscita sempre grande interesse è quello delle nostre partecipate e controllate abbiamo già fatto con il segretario primo perosa una presentazione di questa relazione che riguarda la razionalizzazione delle nostre aziende delle nostre partecipate controllate e partecipate in generale e questa sera cercherò di fare una breve ripresa dei concetti che lì sono stati illustrati chiedendo poi a primo perosa di controllare controllare completare alcuni aspetti di tipo di tipo tecnico e anzitutto una premessa questo piano di razionalizzazione è riferito si riferisce all'attuazione di una legge precisa la 190 del 2014 che in buona sostanza dice a tutti gli enti pubblici di fare una verifica accurata di quella che è la situazione delle partecipate controllate chiamiamole come vogliamo al fine di ecco vorrei portarvi proprio su questo punto al fine di ho sottolineato in giallo quello credo che siano i punti le linee guida di questo documento che più o meno dice date uno sguardo alle vostre società cominciate a dire quelle che sono assolutamente indispensabili per il funzionamento dell'ente o che hanno ricadute di tipo economico importante nel territorio punto a punto b non interessatevi e sopprimete società che siano composti da soli amministratori o quelle in cui il numero di amministratori sia superiore a quello dei dipendenti è evidente che ci si rifà entità per esempio di tipo finanziario di controllo quindi alla fine società di questo tipo sono entrate nel mirino della legge e sono quelle da cui assolutamente è necessario uscire il punto c dice in buona sostanza di evitare che ci siano più partecipate del comune che svolgano attività analoga e che quindi si sovrappongono quindi razionalizzare da questo punto di vista i servizi e quello che viene fatto e poi c'è una generica istruzione indicazione sul fatto di ovviamente tutte le aziende che hanno i servizi pubblici locali cioè quelle che ci interessano di più di andare a vedere di riorganizzare gli ordini amministrativi di controllo e insomma di andare a diminuirne i costi in generale ma in particolare nella parte degli organismi di controllo ecco questi non sono dei principi così diciamo sono logici all'interno del comune di Pordenone poi lo vedremo nella rapida storia che si è evoluta negli ultimi anni questi principi sono stati costantemente tenuti presente e il fatto comunque di essere stimolati da una precisa scadenza perché alla fine tutto questo doveva portare proprio questa relazione entro il mese di marzo del 2015 ci ha consentito anche di fare un'analisi piuttosto accurata di quelle che sono le nostre società e quindi andare a vedere bene se dal punto di vista della qualità dei servizi dello stato di salute da un punto di vista finanziario dal loro funzionamento in generale le nostre società sono all'interno confrontate con quello che è il mercato guardando a quelle che sono i loro risultati le loro performance sono adeguate ecco per far questo abbiamo seguito una tecnica ovviamente di confronti lo trovate in quel materiale che vi è stato messo a disposizione su questa relazione però un per l'altro quello che si può affermare è che le nostre società attraversano un momento di salute di tipo economico e di buon funzionamento che se pensiamo a qual è lo stato dell'arte o quello che ci viene normalmente quotidianamente trasmesso dai giornali di altre partecipate in altre zone d'Italia ci deve rendere sicuramente orgogliosi perché i fenomeni che sono stati continuamente segnalati negli ultimi anni sicuramente qui non ci sono stati in più la qualità dei servizi quello che ci viene riconosciuto è che per quanto riguarda i servizi dove è possibile fare confronti di mercato dentro assolutamente nella media o competitiva ecco io penso visto che comunque è questo sempre una discussione che porta a diciamo confronti molto serrati sulla validità o meno di avere queste queste società come società di tipo pubblico controllate dallo Stato sicuramente l'evoluzione della specie ci costringerà a cambiare il mix a non avere più nel tempo società esclusivamente pubbliche certo che questo è evidente perdere la possibilità di avere un controllo stretto di alcune delle società che danno dei servizi fondamentali al nostro territorio secondo me non è particolarmente saggio per cui nel piano che voi che vi è stato presentato vedete che nel medio certo grandi rivoluzioni se non per due temi non ci saranno aggiungo che un per l'altro la somma delle società diciamo operative che ci riguarda mostra in tutto una forza lavoro di 411 persone ovviamente una una grossa fetta di questo personale è dato dall'ATAP ve lo dico in anticipo anche se secondo quelli più accademici avrei dovuto fare la proporzione tra le persone dell'ATAP e quelle che sono le proporzioni delle nostre azioni io ho voluto comunque fare un totale complessivo io parlo di dati del 2013 e l'ATAP in quel momento mostrava a fine anno nel consolidato un personale di 242 persone però quello che voglio dire è che dal punto di vista del lavoro e delle famiglie che vengono interessate dal funzionamento di queste società insomma 411 persone non rappresentano una parte diciamo inessenziale no delle famiglie della forza lavoro che nel nostro territorio esercitano hanno la possibilità di lavorare e di società che danno lavoro in questo senso quindi io penso che soprattutto nelle nostre discussioni strategiche tattiche di cosa fare di queste società lo anticipo l'attenzione sempre e comunque che sarà che dobbiamo porre è quello che è l'attenzione verso le persone che lavorano in queste società come un patrimonio sia di conoscenze che proprio di ricchezza del nostro territorio ecco andando più ritornando a quelle che sono le linee guida chiamiamole di questo documento questo documento non vuole essere ovviamente esaustivo completamente però alcuni punti li sottolinea molto bene ad esempio sottolinea molto bene quelle che devono essere le disposizioni che riguarda diciamo il modo in cui le società partecipate debbono essere governate tradotto questo punto ve lo traduco molto semplicemente se i CDA delle società stesse possono essere numerosissimi oppure no o se non invece come scritto in modo esplicito nella norma alla fine l'indicazione parlo di società in cui la parte pubblica ovviamente abbia una maggioranza molto alta alla fine non si dica esplicitamente che è gradito avere un amministratore unico questo lo dico perché poi c'è tutto un disquisire ma vi prego poi di leggere la relazione sul fatto che si può avere un CDA parlo sempre di società con forte partecipazione pubblica di parlo del 90 superiore al 90% un CDA di tre persone di cui due dovrebbero appartenere alla pubblica amministrazione gli eventuali compensi da parte di queste due persone dovrebbero comunque essere ridati i soldi agli enti di partecipazione quindi supponiamo traduco bene se ci fosse un consiglio di amministrazione in cui c'è l'amministratore delegato e due consiglieri questi debbono essere del comune della regione insomma di un ente pubblico se è previsto nelle more di statuti regolamenti un qualche cosa in termini di soldi a questi signori parlo dei due della regione del comune debbono restituire questi signori questi soldi all'ente pubblico di appartenenza poi in caso il segretario mi precisa ma il succo è questo qua tradotto è una norma che evidentemente non incoraggia il fatto di avere dei cda nella configurazione dei tre di cui ho detto anche se non si capisce bene ma insomma la norma ne fa esplicito riferimento non è certo il modello a cui noi mai ci riferiremo lo dico in anticipo ma lo volevo citare come curiosità a volte della così è simpatico capire qual è il razionale dietro dispositivi di questo tipo io non l'ho capito ma comunque ve l'ho citato dunque basiamoci ce ne sono altre c'è tutto una lunga esposizione nel documento su come queste società nel tempo debbono comportarsi relativamente in generale al loro modo di operare e al modo di tenere traccia dei loro contratti e dei loro servizi però volevo arrivare visto che questo è in generale quello che si dice a livello di Stato a livello di Regione io volevo arrivare a quella che è la nostra situazione perché alla fine come ho accennato le azioni che si sono svolte nel tempo riguardo a questo specifico aspetto dell'amministrazione di Bordenone diciamo hanno avuto una storia che comincia dal 2000 perché comincia dal 2000 perché facendo sempre una una foto all'epoca la presenza del comune di Bordenone in società vedeva la lista che qui si che qui si può leggere quindi adesso tiro via quindi l'ATAP le autovie venete SPA quindi parliamo di autostrade COMET che è un distretto della componentistica la GEA che in quel momento comprendeva entrambi i servizi di fiuti e di idrico integrato la gestione la GSM la gestione dei servizi di mobilità l'interporto centro in grosso di Pordenone Pordenone Fiera SPA società di trasformazione urbana Stumaco società per l'autostrada di Alemagna SPA ambito territoriale lato cosiddetto ambito territoriale ultimale occidentale parliamo di acqua consorzio per lo sviluppo industriale della zona Ussacorno consorzio per la scuola mosaicisti del Friuli allora vedendo in un certo senso si è lavorato con anticipo cercando di focalizzarsi e capire bene quali di queste partecipazioni fossero veramente utili alla fine per il comune o non fossero molto spesso semplicemente una partecipazione formale per cui con una delibera consigliare del 22 giugno del 2009 c'è stata una riduzione decisa diciamo del numero di società in cui noi figuriamo per cui alla fine Autovie Venete SPA la società di trasformazione urbana Stumaco e la società per l'autostrada di Alemagna SPA sono state dismesse come è stata alienata la partecipazione al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona a Ussacorno diciamo che quindi alla fine ci si è avvicinati dal punto di vista del nostro focus ci si è avvicinati velocemente alla configurazione alla lista delle società partecipate e controllate che noi conosciamo l'ultima parte della relazione ovviamente fa un bilancio di qual è con una prospettiva a breve termine che cosa alla fine intendiamo fare sulle società che quindi sono ancora vedono ancora la partecipazione del Comune di Pordenone e questa tabellina cerco di sintetizzare cerca proprio di dare la sintesi di tutti dei pensieri svolti quindi vi ricordo la GEA che ha una partecipazione di controllo quindi vuol dire che noi siamo un socio di maggioranza ed è una società in house fa i servizi di igiene urbana di gestione del verde pubblico noi intendiamo mantenere la partecipazione a questa azienda e l'idea è di riconfigurare i servizi che vengono dati alla GEA come e portarlo ad essere l'unico diciamo dal punto di vista del senso l'unico gestore dei servizi ambientali questo vuol dire che rispetto ai puri servizi che oggi vengono dati da a GEA saranno accorpati dei servizi ulteriori che riguardano soprattutto il verde e il mantenimento del verde proprio per dare questa configurazione alla GEA stessa di essere quello che dal punto di vista dell'ambiente esegue tutti i servizi in house che il comune di Pordenone intende dare alla città GSM ha la situazione dal punto di vista del nostro controllo identico a GEA cioè siamo i soci di maggioranza ma non con lo stesso livello di maggioranza sapete che svolge un'attività relativa ai parcheggi pubblici a pagamento e di manutenzione segnaletica stradale anche qui noi vogliamo riconfigurare meglio i servizi relativi alla mobilità che GSM svolge per noi facile pensare a una riconfigurazione dei servizi per esempio circa il pagamento con gli smartphone che è stato accennato più volte in questo ambito come ad una gestione più integrata e data totalmente a GSM della nostra segnaletica stradale insomma far sì che questa società dal punto di vista del pacchetto di servizi che vengono dati alla mobilità sia un nostro socio di riferimento che non lavori molto spesso a economia su economia specifiche cioè a compiti dati in modo preciso la programmazione della società sarà basata su un mantenimento complessivo delle nostre strade della loro manutenzione come dei parcheggi come della manutenzione segnaletica stradale in modo quindi più configurato e integrato di quanto oggi non sia l'idrogea beh sull'idrogea e quindi il servizio idrico integrato voi sapete c'è abbastanza poco da dire perché la società è vera noi manterremo una partecipazione voi sapete che di fatto le tariffe dell'acqua non sono stabilite dal gestore quindi da idrogea ma da quello che si chiama cato quindi dal ambito territoriale ottimizzato scusate che attua questo è per semplificarci le vite attua le indicazioni che vengono date a livello nazionale da quell'ente che si chiama AEG da noi detto AEG che con complicatissimi modelli matematici stabilisce per ognuno dei gestori all'interno di ogni cato quali debbano essere le tariffe dell'acqua considerando nella tariffa dell'acqua anche la copertura degli investimenti che debbano essere fatti su un arco di tempo lungo di 30 anni questo è il modo di funzionare al momento di questa cosa è così la legge è stata modificata varie volte e alla fine noi seguiamo dal punto di vista dell'idrogea l'imposizione della tariffa che deve coprire i costi della società e i suoi investimenti i suoi costi di tipo operativo fino adesso riuscendoci l'ATAP è una società collegata cioè noi abbiamo una partecipazione non siamo il socio di maggioranza è significativa la nostra partecipazione intorno al se ricordo bene al 34% voi sapete che l'ATAP è la nostra società di trasporto pubblico locale con altri sta facendo questo importante partecipa a questo importante bando del TPL a livello regionale e è chiaro che ci si augura a tutti che l'ATAP con gli altri è un vero e proprio consorzio quello che è stato creato si vinca la gara si vinca perché dico noi siamo tutto sommato azionisti e ci teniamo che l'ATAP con gli altri vinca e altresì evidente che nel momento in cui la gara sarà ultimata sarà proprio qui ancora una volta in consiglio comunale che andremo a discutere che cosa eventualmente fare di questa società perché se voi seguite in modo strettissimo quello che dice la legge noi non possiamo dire che questa società serva in modo indispensabile al funzionamento dell'ente parlo di modo indispensabile ovviamente da dei servizi che per la nostra comunità però sono molto importanti la gara chiarirà alla fine chi sarà il vero gestore della qualità di servizio cioè la regione e con che modalità e noi nel tempo alla fine avremo come controparte delle nostre discussioni sul trasporto pubblico locale non più la provincia ma direttamente la regione quindi la domanda che dovremo porci ma avremo tempo di farlo e questo non deve immediatamente portare alla conclusione che domani mattina vogliamo vendere l'ATAP tutt'altro sarà basato su un'analisi che passerà sempre comunque ve lo ricordo perché qualsiasi azione che riguardi questa società deve passare in consiglio comunale ma sarà un ragionamento interessante che dovremo fare andando avanti dopo che questa benedetta gara sarà terminata Pordenone Fiera S.P.A. Allora vedete gestione della Fiera di Pordenone lo sappiamo tutti mantenimento della partecipazione nelle more della riorganizzazione delle società fieristiche regionali tradotto sappiamo benissimo delle difficoltà che in generale le fiere quindi anche che la nostra hanno in questo momento di economico la Fiera viene comunque vista come un motore di opportunità di tipo economico bisogna capire bene che questo non si trasforma in un boomerang dal punto di vista di ricadute negative della sua operatività allora una decisione diciamo di trasformazione della nostra Fiera non può che passare attraverso una discussione fatta a livello regionale per capire le altre fiere che fine vogliono fare o che fine faranno avete visto sui giornali le difficoltà che in questo momento la Fiera di Udine che insomma attraversa anche anche loro attraversano un momento non particolarmente felice ma molto più infelice del nostro però alla fine non è che ci deve interessare se altri stanno peggio di noi a noi deve interessare di avviare a livello regionale una razionalizzazione di questa entità altrimenti secondo me bisognerà veramente chiedersi che tipo di politiche di promozione delle nostre attività economiche locali pur che in tutte le difficoltà lo sappiamo bene noi vogliamo mantenere a livello locale per consentire alle nostre aziende di essere non solo di mostrarsi qua visto che una certa attività di internazionalizzazione è stata lanciata dalla Fiera come approfittare di questi canali per mostrarsi anche all'estero COMET voi lo sapete è un è un consorzio consorzio qui la faccio molto breve questo consorzio è coinvolto diciamo dalle trasformazioni che in generale riguardano enti di questo tipo di promozione di tipo economico ce l'hanno chiesto loro tra l'altro non proprio direttamente voi sapete che in base alla nuova legge regionale questi tipi di entità saranno interessate potranno essere interessate a contributi regionali solo se la maggioranza dei soci sono privati cioè scoraggia il fatto di avere partecipazioni pubbliche all'interno di consorzi di questo tipo per cui alla fine noi dismetteremo questa presenza da ultimo l'interporto SPA anche qui abbiamo una partecipazione minoritaria vi ricordo che l'interporto centro ingrosso era nato alla fine per completare le opere di urbanizzazione di un'area che doveva essere appunto l'intermodale del centro ingrosso le opere di urbanizzazione e consentire di ospitare in quelle aree strutture logistiche questo compito è non molto lontano dall'essere ultimato noi nel momento in cui le opere saranno ultimate ci sarà una proroga ma questa proroga non sarà credo più lunga di un anno per consentire alla fine di ultimare queste opere alla fine l'interporto per statuto si deve chiudere quindi questo dal punto di vista proprio pratico legale questa parte nel momento in cui le opere la sua iniziale l'iniziale scopo per cui era nato l'interporto sarà raggiunto la società ha raggiunto lo scopo per cui era stata creata e dovrà essere chiusa la domanda è alla fine chi gestirà una cosa di questo tipo altro capitolo ma non può essere la parte diciamo di funzionalità legistica così com'è essere gestita direttamente dall'interporto senza una trasformazione profonda della società stessa quindi la faccio anche qui un po' sintetica ma c'è una fine naturale di partecipazione nostra all'interporto dato dalle caratteristiche della società allora io credo che questo sia il succo quello che trovate in modo molto più dettagliato per ciascuna di queste entità ci sono delle informazioni che riguardano i confronti che abbiamo fatto e le motivazioni che hanno portato alla fine all'adozione di queste decisioni mi chiedo se il segretario da un punto di vista meramente di qualche dettaglio normativo vuole completare questa illustrazione proprio per chiarezza minuto Sì, solo due informazioni aggiuntive. Il sindaco, devo dire, è stato esauriente, è riuscito a sintetizzare il lavoro in modo completo. Aggiungo due informazioni. La parte di confronto sui costi, quindi di verifica dell'economicità, è rinvenibile anche in un'apposita relazione che per quanto riguarda GEA e GSM è stata dotata dalla Giunta Comunale nel mese di dicembre ma che sarà oggetto di riesame del Consiglio Comunale quando verranno prodotti anche i piani di sviluppo e quindi gli scenari dettagliati sulle società e quindi che faremo in una delle prossime sedute che cercheremo di accorpare magari con qualche argomento emergente quale potrebbe essere a breve la concessione dell'intermodale della stazione dove questo è un ulteriore addempimento formale ma che consente al Consiglio Comunale di capire e di verificare ogni qualvolta ci sono affidamenti di servizi nuovi o comunque di aggiornamenti contrattuali nei confronti delle proprie società di verificare tre aspetti fondamentali che sono la rispondenza delle normative europee e nazionali l'economicità, quindi con confronti, la comunicazione e trasparenza delle condizioni ai cittadini e utenti e delle eventuali compensazioni sui servizi questa famosa relazione, il cosiddetto articolo 34 prevista da una legge del 2012, il 179 ve la ritroverete in alcuni casi, magari può essere di competenza della Giunta se riprende cioè non è nulla innova, invece viene in Consiglio Comunale ogni qualvolta ci sono cose che cambiano o nuovi servizi da affidare. Uno stralcio di quella relazione è inserita per quanto riguarda in particolare GSM e GEA e avrete modo di affrontare anche per, quando sarà il momento di chiudere la partita dell'intermodale nella stazione, arriveremo a sottoporvi una proposta di analisi con questa relazione articolo 34. Oltre a questo ancora due cose e basta che riguardano il sistema di monitoraggio e controllo che sarà più stringente in parte per obblighi, quindi noi andremo, il sindaco si è già dilettato da manager d'azienda ad alcune simulazioni sul consolidato delle nostre partecipate, in particolare per gli effetti di quanto personale muovono e di quanto valore aggiunto muovono, quindi del valore della produzione ma dovremo farlo a partire dal prossimo anno anche per gli aspetti contabili, quindi andremo a consolidare il nostro bilancio anche con gli aspetti di utile perdite e valore del patrimonio che nel caso delle nostre società, a parte Fiere, il Pordenone che ha avuto qualche problema negli ultimi anni, ma non dai preconsuntivi, non sul 2014, non abbiamo, anzi abbiamo tutte le società ben patrimonializzate con utili accantonati, con riserve importanti, mentre altre realtà invece stanno soffrendo perché devono cominciare ad accantonare le perdite delle loro società, oppure decidere il da farsi. Nella sezione 7 di questo piano della relazione tecnica sono individuate quindi alcune azioni di controllo più stringenti che vanno dalla definizione preventiva di obiettivi, quindi sarà un'estensione del nostro sistema di controllo di gestione, quindi oltre ai meccanismi di obiettivo e controllo che oggi sono gestiti dai cosiddetti CRC che sono i sistemi, i comitati di controllo analogo e dall'assemblea degli azionisti. Quindi miglioreremo anche la reportistica per dare più evidenza e più conoscenza sia a chi gestisce i contratti, quindi i dirigenti che gestiscono i contratti di servizio sia a Giunta e Consiglio Comunale e quindi andremo a rivisitare anche i contratti di servizio e oltre poi al monitoraggio della situazione economico-finanziari. aggiungo ancora una cosa che il Sindaco per la sua, cioè è stato esauriente complessivamente, ma sul procedimento di approvazione di questa relazione abbiamo voluto dare importanza al Consiglio Comunale perché la norma direbbe che i presidenti delle province o delle regioni sindaci approvano il piano di razionalizzazione e vai. Il Sindaco ha voluto che, ovviamente ha dato le direttive, ha sovrinteso all'analisi che abbiamo fatto, ma ha voluto che prima venissimo in Consiglio Comunale e dopodiché fa proprio il piano e lo mandiamo in corta di conti, lo pubblichiamo e quant'altro. Quindi ha voluto che il Consiglio Comunale avesse contezza, potesse eventualmente fare delle osservazioni e condividere pienamente un documento del genere, anziché procedere autonomamente e poi venire in Consiglio per le azioni conseguenti e per le valutazioni del caso. Io direi che non ho altro da aggiungere. Chiarisco, non sono certo l'unico, ho seguito come i colleghi, gli altri sindaci, almeno della nostra provincia, andranno a fare questo tipo di atto proprio per, oddio, è evidente che non tutti hanno una situazione abbastanza complessa come la nostra, a volte ci sono partecipazioni di tipo minoritario, però proprio per la delicatezza, e questo lo anticipo, per questa delicatezza dei temi in alcuni, insomma, delle nostre entità più importanti, sicuramente la stessa discussione la vedrete anche negli altri Consigli Comunali. È troppo importante perché è un tema del genere, seppure alla fine non stiamo ancora discutendo del dettaglio dei servizi che verranno, dei contratti, insisto, quello sarà un altro passaggio fondamentale dal punto di vista della discussione e del chiarimento della materia. Comunque, proprio per la delicatezza della cosa, credo che sia nell'agenda di tutti i Consigli Comunali del prossimo mese nella nostra provincia. Grazie, signor Sindaco, anche per aver deciso di sottoporre al Consiglio questo argomento molto importante. Bene, ci sono richiesti di chiarimenti da parte dei consiglieri? Prego, consigliere Piccini. Grazie, Presidente. Io volevo chiedere, non so se al signor Sindaco o al Segretario, se quello che ho letto, come dire, rientra in qualche modo nella azione che stiamo facendo noi questa sera. Leggevo che ci sarebbe una scadenza entro il 31 marzo, leggevo su solo 24 ore, di questo piano di razionalizzazione che se trasmesso entro il 31 marzo, dice qui, chi manda alla Corte il piano entro il 31 marzo potrà sfruttare gli incentivi fiscali che esentano le operazioni di cessione e scioglimento dalle imposte sui redditi e dall'IRAP e permettono la dedugibilità in cinque anni delle eventuali minusvalenze. E non solo, dice, permettono anche di utilizzare le regole speciali sulla mobilità dei dipendenti che potrebbero dare una grossa mano a gestire uno dei capitoli spinosi della riorganizzazione. Immagino che noi su questa cosa non centriamo, ma volevo capire quali erano le sfaccettature. Grazie. Sì, centriamo. Nel senso che l'adempimento è questo, cioè il piano di razionalizzazione. Noi l'abbiamo inserito anche in conferenza a Capiglupo il 30 per poter poi domani approvarlo con un provvedimento già predisposto a nome del Sindaco e inviarlo in giornata via PEC alla Corte dei Conti. Per beneficiare di eventuali, perché poi le effettive decisioni poi saranno successive, però nel momento in cui noi dismetteremo COMET o altri soggetti, potremmo anticipatamente già prenotare il godimento di questi vantaggi fiscali. È una delle prime volte che vedo che viene introdotto un meccanismo premiale. Poi, per l'esperienza, non credo che poi non prorogheranno per altri. Ma comunque, intanto noi diciamo che siamo a posto così. Se approviamo stasera il Sindaco può inviare domani. Grazie, segretario. Consiglio Pedicini, prego. Posto? Sì, no, volevo un chiarimento che poi in Commissione d'altra sera non abbiamo avuto. riguardo le altre partecipazioni che ha il Comune di Pordenone. Perché voi qui ne citate alcune. Ma per esempio, siamo ancora nel Consorzio di Bonifica Celina Meduna? Domanda. Oppure nel Consorzio di Pordenone per la formazione superiore? Sì, perché sarebbe quella che chiamano l'università. Nel Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia. Nel Consorzio per la scuola Mosaicisti del Friuli. Nel Consorzio per l'Idrovia Litorane a Venita e di Ramazioni. Cioè, vorrei sapere se ci siamo anche in queste, perché non si fa menzione nella relazione, ma sono partecipate. Come sempre partecipate, non sono solo queste, sono anche le farmacie comunali, che non sono fondamentali per la gestione del... è un'attività che svolge il Comune, ma non è fondamentale. Sono improprio. le fa... sì, ho capito, ma non è fondamentale per l'attività del proprio Comune, come le oneranze fulni, come i servizi cimiteriali possono tranquillamente essere svolti da altri. Ma mi interessava capire prima, poi l'intervento lo farò dopo, se in tutti questi consorzi che le ho detto, poi ci sarebbero tante altre, ci sono altre partecipazioni dove il Comune è presente e non è fondamentale, per l'attività nello spirito della legge. Vedo che si fa molta fatica cosa. Però volevo intanto capire su queste che le ho menzionato, siamo ancora presenti o meno? Così mi aggiorno all'elenco. Grazie. Allora, rispondo per i tre consorzi, per i tre consorti. Allora, la consulta d'ambito del Cato Occidentale e il Consorzio di Bonifica sono consorzi obbligatori previsti per legge. Cioè, è solo fatto che abbiamo un territorio, per dire, nel caso di Consorzio di Bonifica e siamo consorziati. Solo fatto di avere una proprietà, sostanzialmente, quindi la legge ci ha infilato. Per invece la scuola Mosaicisti è una scelta che è in valutazione, quindi è in istruttoria. Poi ci sono anche altri soggetti, che sono il teatro... No, ecco, la differenza è che, diciamo che il 190-2014, quindi questi commi 611 e seguenti, riguardano le attività ai servizi aventi rilevanza economica. Quindi l'obbligo in questo momento è di intervenire sui servizi pubblici che hanno rilevanza economica, quindi non sui servizi di altra natura. Poi le farmacie sono un servizio in economia, come altri, quindi non sono proprio né partecipazioni, né altre... Quindi non rientrano in queste fatti specie, rientrano in valutazioni che può effettuare un'amministrazione, così come la casa di riposo, ok? Oggetto anche qui di un'istruttoria di un'istruttoria per una possibile fusione verso l'ASP. Grazie. Consiglio Apiccinato, prego. Grazie. 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 Presidente, volevo semplicemente sapere la tempistica per quanto riguarda eventualmente l'interporto, la questione dell'interporto, se ci sono delle date, delle idee di completamento, insomma, eccetera. Grazie. Noi stiamo proprio discutendo con l'interporto la loro programmazione sull'ultimazione di un paio di opere. Su questo daremo loro una deroga, sì, un prolungamento dei tempi della chiusura. Questo, se ben ricordo, nei nostri programmi sarà a luglio di quest'anno e a luglio di quest'anno, diciamo, questo anno, il programma, insomma, il cronoprogramma, la tempificazione di quest'azione di completamento sarà incluso perché fa parte delle clausole della deroga stessa. Quindi questo sarà il momento in cui, alla fine, si capirà esattamente in quanto tempo le ultime opere a completamento saranno fatte. Ma quello che noi sapevamo era che ci mancava circa un annetto, quello che ho detto prima. Però preferisco vedere con un preciso, vedendo anche che alcuni interventi non sono particolarmente complessi nell'ultimazione dell'interporto, però è meglio avere il loro programma sostenuto da un'analisi tecnica precisa. Grazie, Presidente. Credo che sarà un intervento abbastanza breve perché, insomma, ho compreso quello che, dalla risposta che prima mi ha dato il Segretario, io pensavo che qui ci fosse sostanzialmente una, come dire, una revisione, ma è un addempimento di legge, come abbiamo visto, e di fatto si è iniziato a delineare un qualche cosa, perché nel piano di razionalizzazione in qualche modo si dice faremo in un determinato modo, però sostanzialmente qui oggi non diciamo nulla di che. Bene, che lo facciamo nei tempi e ci prenotiamo quello che, insomma, eventuali, come dire, sistemi premiali, se ci saranno, ma volevo incentrare la mia attenzione su due elementi. Sul primo elemento che, fino a quando non ci sarà un sistema, quello che si faceva riferimento prima, di un bilancio in qualche modo collegato a quello del nostro Consiglio, fino a quando è vero, i dati sono online e questo è fuori discussione, ma capire bene che cosa significa per il nostro Comune, quale vantaggio noi, non noi Consiglio Comunale, ma i cittadini della nostra città, traggono dalla gestione in questo modo di alcuni servizi, io devo dire la verità che non ce l'ho chiarissimo. Citava in Commissione, giustamente, il collega Pedicini qual è il rapporto costi-efficienza-benefici che poi abbiamo. Non lo so, non l'ho compreso bene fino in fondo, magari colgo l'occasione per, come dire, promuovere qui o chiedere che magari partecipata per partecipata si potesse fare una prima commissione consigliare dove si prende finalmente in mano, assieme con o l'amministratore unico o il rappresentante del Consiglio di amministrazione, il Presidente, insomma sostanzialmente qualcuno che venga in prima commissione e se non verrà fatto lo chiederò, a dirci dettagliatamente noi facciamo questo, i nostri risultati sono questi e poi magari li andiamo a confrontare, così come c'era stato anticipato già in Commissione, con altre realtà. Sicuramente do atto all'amministrazione signor Sindaco di aver fatto bene a sottolineare che la nostra non è una situazione come quella che si prospetta in altre realtà. Noi, insomma, qui si sta cercando di gestire bene. Però voglio dire, rendersi conto e capire bene fino in fondo credo che per, almeno per i consiglieri comunali, sia importante. Soffermo poi la mia attenzione sul fatto, sul capitolo 6 della relazione che ci è stata inviata. Ed è quella che fa riferimento ai risparmi di spesa derivanti dal piano di razionalizzazione. Allora, leggo qui che verrà fatta una stima per GGSM e poi al punto B leggo gli amministratori, per cui dopo aver fatto un ragionamento si dice che gli amministratori di società partecipate nel 2015 dovranno subire una riduzione degli emolumenti tale da ricondurre gli stessi all'80% del valore del 2013. Quindi è una cosa, prego, 2013 c'è scritto qua, c'è scritto. E a meno che non ci sia un refuso. Allora, mi chiedevo se guardando GSM, che ha un amministratore unico. Idrogea, che ha anche questa, un amministratore unico. Tra l'altro, tra l'amministratore unico di GSM e quello di Idrogea, ci sono circa 20.000 euro di differenza nel compenso annuale lordo. L'ultimo fatto, il signor Giovanni Deanne, il più sfortunato perché è arrivato evidentemente in momenti di, come dire, di tagli, prende 24.000 euro. Poi c'è ATAP dove noi solo in qualche modo partecipiamo e poi c'è Pordenone Fiere e anche qui noi partecipiamo, però anche qui ci sono, insomma, già alcuni tagli sono stati fatti perché vedo che non c'è più un'indennità ma un gettone di presenza, ma permangono. L'amministratore delegato, il presidente, che hanno, come dire, non da poco. Per tornare a casa nostra, Gea, hanno 30.000 euro il presidente e l'amministratore delegato 35.000 euro. Ecco. E Gea, invece, l'amministratore unico, quindi la nostra amministrazione ha fatto, come dire, è andata nel verso che indica la normativa degli amministratori unici perché GSM, Idrogea e Gea hanno l'amministratore unico, dicevo Gea ha oltre 40.000 euro, 41.000 euro e più i 15.000 euro ho trovato qui, anno di riferimento 2012 e così via. Allora, questo per dire, non per dire che queste persone prendono troppo, troppo poco, non lo so, svolgono un compito, ma per capire se noi torneremo in Consiglio Comunale quest'anno a, se siamo già dentro a questi parametri che sono scritti nella relazione, cioè l'80% di ciò che prendevano nel 2013, o se in qualche modo dovremmo ritornare almeno per quanto riguarda le nostre controllate. Anticipo anche, Presidente, la mia dichiarazione di voto, poi non so i colleghi di gruppo che cosa faranno, nel senso che rispetto a ciò che viene prospettato qui questa sera e per le considerazioni che ho fatto in premessa, ovvero riuscire a capire fino in fondo di che cosa stiamo parlando, non di che cosa si occupano queste società, intendiamoci, ma di che cosa stiamo parlando in termini di efficacia e di efficienza, il mio voto sarà di astensione, attendendo anche quello che lei, signor Sindaco, ha detto nella sua spiegazione, ovvero quelle forme di effettiva razionalizzazione che dovranno essere, mi sembra di capire, a breve. Grazie. Grazie, Consigliere Piccini. Consigliere Dalmas, prego. Intervengo perché me l'ha chiesto Giannelli, mi dice, fai assolutamente un intervento per la posizione del gruppo, siamo rimasti in due, quindi gli ordini del capo che lui mi costringe a... ma non si capisce una cosa, o meglio, il piano di razionalizzazione, voi avete svolto bene il vostro compito perché se dovessimo vedere le cose nel resto d'Italia, a questo comune le cose le aveva abbastanza in ordine, direi, quindi non c'era granché da dire, l'adempimento della legge di stabilità è una cosa insomma abbastanza scontata qui da noi, perché insomma grandi... cioè Cottarelli starebbe qui 15 minuti, poi se ne va, perché insomma non c'era granché da dire, quante sono 7 mila le partecipate in Italia, non so se... 8 mila, 8 mila, il piano Cottarelli diceva, ma insomma arriveremo a mille, non lo so, attraverso queste cose dovrebbe essere, quindi... fatto sta però che la... dov'è il tema, la questione politica qual è? è che lei si è tenuta la delega per le partecipate e se non ci fosse stato la legge di stabilità non avremmo saputo nemmeno più di tanto determinate cose, poi arriverà il bilancio consolidato su GEA e quindi tutto il resto, quindi scopriremo, avremo ulteriori dati a disposizione. Io faccio una riflessione solo di ordine politico che è questa. Qui la questione non è, si tratta di capire, probabilmente non c'era il tempo, non era questo lo spirito della legge, la spirito della legge è un addempimento, oggi fare un check up della situazione di quello che c'era e su questo insomma indicare grosso modo, grandi linee, gli obiettivi che l'amministrazione intende esercitare sulle società partecipate o controllate, controllate in primis, partecipate in secundis, direttamente o indirettamente. In commissione è venuta fuori la questione di SNUA dove lei ha detto ma ci penseremo un po' su SNUA, cercheremo di capire, effettivamente di SNUA ben poco sappiamo perché è una società dentro, una società che la contiene, che è ATAP, per cui voi portate la questione di ATAP, assolvete gli obblighi normativi su questo, però di SNUA sostanzialmente non si sa che tipo di cose farete o che tipo di indirizzi direte all'organo di gestione o controllo di ATAP. Ecco qui la considerazione viene sull'aspetto come dire tipicamente pordenonese che c'è stato in questi anni a gestione di chi l'ha preceduta. Perché vedete, ieri l'altro giorno pensavo di regalarvi un libro di René Girard sulla teoria del capo espiatorio e leggendo i giornali e leggendo le posizioni del Partito Democratico di autorevoli esponenti che a vario titolo si dilettano nel dire che questa amministrazione insomma qualcosa che non va a ipotizzare candidati sindaci diversi per il centro-sinistra, bene mi sembra che questo sia esattamente lo spirito, cioè si va a ricercare il capo espiatorio di questa vicenda. Colui che è stato, colui che ha nel bene o nel male fatto la storia politica di questa città negli ultimi dieci anni, oggi cerca prima di altri il capo espiatorio sul quale evidentemente far cadere le sue responsabilità. Ecco perché lei oggi si è tenuto con, come dire, consenso di responsabilità, credo rispetto alla massima carica di questo comune, però se io vado nel piano di razionalizzazione e leggo l'ultima tabella di sintesi, sostanzialmente non cambia niente, non è successo niente, non è successo niente, non è successo niente, non è successo niente e per di più avete anche la fortuna che tutto sommato lo Stato non vi chiede niente perché le cose in qualche modo c'erano, ma che cosa di diverso avremmo potuto fare? E questo è il tema. Che cosa di diverso avremmo potuto fare? Ecco la questione non chiedo una risposta evidentemente adesso, anzi finisco, perché sai in questi giorni sono tante le cose che vengono fuori, ci siamo scambiati anche dei messaggi personali che non rivelo, perché potrebbero essere mal interpretati, ma riguardavano fatti di cronaca realmente accaduti e di particolare attenzione di questa città che si scopre attenta a certe cose e oggi per esempio verifico che la corrispondenza tra ciò che si immagina e ciò che accade e ciò che è nella realtà è così incredibile. Purtroppo la realtà è più drammatica della fantasia. Lo è stato il caso delle telecamere di questi giorni dove abbiamo scoperto che praticamente il Comune, e io volevo sapere chi era il Sindaco allora, è una cosa della sua amministrazione, abbiamo scoperto che praticamente c'erano delle telecamere in un luogo praticamente aperto al pubblico, di utilizzo pubblico, cioè una palestra e queste telecamere erano completamente così finte. Se vado e entro nel sito del garante della privacy scopro che praticamente sono illegittime, tanto più in quanto funzione riconducibile in qualche modo ad un servizio, ad un ente pubblico, comunque a ragioni insomma pubbliche. E qui mi fermo perché vado fuori tema, vedo già che il Presidente mi sta richiamando. Ecco la situazione paradossale è questa, la situazione paradossale è sostanzialmente qui, questo è un Comune che ha delle telecamere messe lì che non funzionano e io vorrei sapere chi è quel Sindaco che le ha messe, ma ce lo verrete a dire per piacere. Io voglio sapere chi ha fatto quei contratti se c'erano, chi ha affidato queste cose. Voglio sapere perché se il GSM funziona così bene paghiamo e i cittadini di Pordenone devono pagare o chiunque venga in centro in questa città paga un ticket altissimo. Questo è il punto. Questo è il punto politico. Voglio sapere se la gestione praticamente di altre società pubbliche può essere pubblica o necessariamente potrebbe essere privata, affidata ai privati. Questo è il tema politico rispetto al quale la sua amministrazione, siccome lei è un innovatore, dovrà cimentarsi nel prossimo tempo e spero che dica qualcosa di più entro la fine di questa legislatura perché ad oggi noi arriviamo a malapena con un compitino fatto dagli uffici, ben spiegato dal segretario generale, ma privo di qualsiasi valenza futura, di qualsiasi rispiro, non c'è niente. C'è una tabella riassuntiva di cose già dette, già fatte, nessun cambiamento. Eppure le tariffe aumentano, eppure i parcheggi costano tantissimo, eppure abbiamo le telecamere che praticamente non funzionano, non funzionano, non servono a niente, sono scatole vuote. Questo è il problema. Allora io non le chiedo di sovvertire il sistema delle partecipate, però le chiedo una cosa, di capire come mai, e questo veramente, come mai la sua amministrazione, e lei è arrivato qui, avrebbe dovuto portare il cambiamento dovuto all'esperienza dell'industria, dell'impresa, come mai tutto questo non sia avvenuto? Qui stiamo praticamente continuando a gestire l'ordinario, nell'ordinario, tagliato in due, sottodimensionato, rispetto a quello che aveva messo in piedi il suo predecessore. Chiacchiere, fuffa, nulla di tutto ciò, sulla vicenda dell'ospedale, sulla vicenda della Cimpello-Sequalgemona, sulla vicenda dell'assoluta contraddizione tra ciò che dico qua e ciò che faccio a Trieste. E queste cose ve le diremo perfettamente nel bilancio, vi ricorderemo esattamente le vostre mancanze, vi ricorderemo il fatto che come nelle telecamere, così tutto il resto funziona nelle scelte strategiche di questa città. Il nulla venduto per il tutto. Siete bravissimi. René Girard dovrebbe imparare da voi sulla teoria del capo espiatorio. Bene, grazie consigliere. Consigliere Pedicini, prego. Grazie. Allora, devo dire che questa delibera, che segue di poco l'illustrazione della previsione di bilancio, mi fa pensare, devo confessarvelo, perché davanti a fronte di un bilancio che presenta, così come è stato illustrato, 3 milioni in meno e quindi da recuperare, sono stati recuperati con tagli lineari un po' su tutto il fronte, perché fare un bilancio e poi tagliare tutto per arrivare a recoprire i 3 milioni, vabbè, non è che ci voglia grande strategia per fare una cosa di questo genere, si presenta una relazione, un piano di razionalizzazione delle società partecipate che in realtà, costruita molto bene, devo fare i complimenti all'amministrazione e al segretario perché giustifica tutto quello che fa in modo molto lineare e preciso, alla fine sostanzialmente, come è stato già detto, non cambia assolutamente niente. Ci sono delle prospettive ma in realtà non cambia nulla. L'unica cosa che siamo sicuri che dismettiamo è qualcosa che non serve assolutamente a nulla, come la Comet, una cosa inutile e che anzi si poteva fare almeno anche di starci dentro, no perché che ci sia dentro il comune è inutile, come la provincia, poteva fare almeno di starci tranquillamente e un consorzio fra aziende che dovrebbero trovare la forza di, non sanno neanche, dire il vero dovrebbero trovare anche il motivo per stare insieme e fanno una gran fatica anche a ricercarlo quello, ma non importa, ma in realtà poteva essere un'ottima occasione per mettere insieme i due elementi, il piano di razionalizzazione delle partecipate con la previsione di bilancio. Ecco che allora forse la chiave di volta era questa, trovare attraverso la nuova riorganizzazione di questa amministrazione nel suo modo di gestire il denaro pubblico, poteva essere anche quello di trovare le risorse per dare migliori servizi ai cittadini a minor costo. Non entro nel merito, non voglio andare nel dettaglio, mi fermo qui poi ne parleremo quando faremo e parleremo del bilancio. Quello che traspare da questa razionalizzazione che non razionalizza grazie. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. di essere trattato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. voto. voto. Grazie a tutti. 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 No, no. Grazie a tutti. 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 Numero 1. Grazie a tutti. 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 E quindi, Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. Presidente. Grazie a tutti. 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 a tutti.